Prego, consigliera, per tre minuti ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Ringraziamo il consigliere Di Priamo, ma i firmatari di questo emendamento, veramente accorti, devo dire, perché nel momento in cui il Movimento 5 Stelle pensa ad una commissione d'indagine, allora eccolo lì che si fanno gli scrupoli. È vero, ci sono del personale di Roma Capitale che sta presso le commissioni, ma io voglio anche ricordare che non tutte le commissioni hanno riempito le caselle previste dal regolamento, ci sono commissioni che hanno solo una o due dipendenti al punto del Comune di Roma che sono passate. Nelle commissioni stesse, come per esempio io da Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, posso parlare della mia, io ho solo tre persone su cinque che potrei avere. Ringraziamo quindi per questa delicatezza da parte dei consiglieri sottoscrittori e non capiamo come mai proprio adesso, quando nel passato sono state fatte diverse commissioni speciali e magari non si sono posto questo problema. Quindi chiaramente il nostro voto è contrario, perché lo riteniamo veramente quasi di bassa lega. Ecco, mi verrebbe di dire così, chiedere una cosa del genere, soprattutto quando una commissione così delicata andrà a spulciare tutte le carte e quindi avrà bisogno sicuramente di personale. Grazie. Grazie a lei.